Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi anche oggi abbiamo un bel po' di novità di cui parlare per quello che riguarda oramai gli ultimi giorni della season numero 7. Quelli che ci stanno accompagnando, porco giù da porco, alla season numero 8. Un sacco di hype per questa season. Vi ricordo che siamo con gli amici del gruppo Telegram Fortnite Italy. Andate a dargli un'occhiata, il link è in descrizione. Quindi ragazzi, di che cosa parleremo oggi? Beh, diciamo che volevo farvi vedere alcune teorie sui terremoti che sicuramente lo avrete notato sono parecchio più intensi rispetto ai primi di oramai 5 giorni fa circa. Vedremo anche ragazzi delle curiosità davvero incredibili sulle sfide di San Valentino, quelle che arriveranno con la patch 7.40. E ovviamente un bel po' di leaks che non fanno mai male e che ci piacciono davvero un casino. Vi ricordo intanto di lasciare un bel like se vi piacciono i miei video. Soprattutto voglio ringraziarvi per utilizzare il mio codice creator, Xioderone. Grazie di cuore ragazzi per il grande supporto che state dando al canale. E mi raccomando, non dimenticate di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica. La prima ragazzi, la domanda raga, ve la devo fare, ve la devo fare ragazzi. La domanda è davvero semplicissima e magari ci arrivate anche da soli. Dai ve la dico lo stesso. Quale preferisci tra i due? Dai ragazzi, ieri sono uscite le due nuove skin. Il robottino che si chiama Custom, se non ricordo male, e Latizia che si chiama Latizia. Non ricordo, non ricordo, no Latizia, Latizia, non ricordo il nome. Voi quale preferite tra le due? E soprattutto ne avete shoppata qualcuna? Beh, io lo vedete ragazzi, ho il robottino. È veramente molto trash. Yes, I like it, mi piace un sacco, voglio sapere qua sotto nei commenti qual è la vostra preferita e se ne avete shoppata qualcuna in particolare. Ma quindi, ciao Giolevande e bando alle ciance, andiamo subito subito a parlare ragazzi di un oggetto che tutti stiamo aspettando da oramai un bel po' di tempo. Ho degli aggiornamenti ragazzi sul driftboard, hoverboard, draftboard, insomma. Ma viene chiamato in un sacco di modi da parte degli utenti delle community di Reddit e di Twitter riguardanti Fortnite. Ce l'hanno fatto assaporare. Oramai un bel po' di settimane fa qualcuno è riuscito anche a provarlo con un paio di manipolazioni strane. Ma ragazzi, l'overboard, chiamiamolo un po' come lo volete, ancora non è uscito. Allora arriva una domanda fatta da un utente direttamente ad uno dei capoccia del team di Epic Games e la domanda è proprio questa. Gli dice Gli chiede quest'utente a Mark Rain, cioè l'overboard arriva o non arriva, risposta del Mark Rain di poche ore fa. Stay tuned, cioè stai aggiornato, tieniti forti in poche parole nel senso attenzione che fra poco ci siamo. Sembrerebbe ragazzi, e voglio dirvelo più avanti nel video, che la probabilità che arrivi questo driftboard nei prossimi giorni prima della season 8 sia abbastanza elevata e potrebbe anche non essere utilizzato sulla neve ragazzi. Ma lo vedremo, ma lo vedremo. Andiamo avanti ragazzi e parliamo di un altro argomento davvero super interessante che è appunto l'intensità dei terremoti e le cause che i terremoti potranno compiere sulla mappa di Fortnite. Ne abbiamo visti già alcuni. Chi ha avuto la fortuna di vedere i terremoti con la polvere ha capito quant'è l'intensità. Ma ad esempio, ieri, durante la live, abbiamo assistito ad una brevissima scossa di terremoto ma di un'intensità incredibile che ha relativamente scosso la videocamera. Questa ragazzi vuol dire che la seconda fase dei terremoti, vi ricorderete se avete visto i miei video precedenti, la fase shake camera and strong, quindi camera che si muove di più e terremoto più forte, è già iniziata. Sono molto veloci ragazzi i terremoti. E la terza fase, se non ve la ricordate, era trees falling, quindi gli alberi che cadono. Ne abbiamo già uno qua. Questa è un'immagine presa direttamente dalla mappa di Fortnite. Questo albero però, credo, che sia quello vicino alla casa dove c'è l'aeroplano incastrato. Quindi è un albero già caduto. Ma dovrebbe assolutamente questo essere l'effetto che tra pochissimo, in teoria, dovremo vedere. Quindi gli alberi che cadranno. E parlando di terremoti, ragazzi, voglio dirvi una cosa. Forse non ce ne siamo accorti, ma per l'ennesima volta gli easter eggs presenti nei pass battaglia delle season precedenti si rivelano veritieri. Forse non ve lo ricordate, ragazzi, ma nella stagione numero 6 era già predetto il terremoto. Questo è uno standardo che ci hanno dato la scorsa season, ragazzi. E non è altro che, come vedete, il simbolo di una scossa di terremoto. Quindi, tuttora, anche se noi non sappiamo le cose, Epic Games già ce le dice con una season di anticipo. Dobbiamo semplicemente leggere tra le righe. Ma in realtà è impossibile, perché non conoscendo la storyline possiamo solo tirare supposizioni. Ma andiamo avanti, ragazzi, e parliamo anche di una teoria davvero interessantissima. Una domanda che mi fate in tanti durante il live è Porco Giuda, ma torna o non torna a Boschetto Bisunto? Porco Giuda, Boschetto Bisunto, una delle city che è stata colpita maggiormente dal ghiaccio e dalla neve, è tuttora congelato in un lago di ghiaccio. Beh, quello che viene detto in questa teoria, ragazzi, è che praticamente è mentre la season finirà, molto probabilmente tutta la neve, anche quella rimasta più intensa vicino al picco polare, verrà sciolta. E effettivamente, ragazzi, anche qui un bel po' di elementi del pass battaglia ci fanno ipotizzare che la season numero 8 possa avere come tema principale l'acqua. Come vedete c'è un sole, c'è un pupazzo di neve che si scioglie, c'è addirittura un polpo che potrebbe essere un mostro marino, dei pesci e, interessante, l'oblò del sottomarino. Come sappiamo, ragazzi, in questa season abbiamo un sottomarino che è là, è stato praticamente utilizzato solo, non so se lo ricordate, nella prima settimana dove c'era da trovare la stella segreta o forse lo standard o segreto, non ricordo con precisione, che era proprio in cima al sottomarino. Dopodiché non abbiamo più avuto modo di utilizzarlo se non un'altra volta per ballarci sopra. Quindi, ragazzi, il sottomarino si dice che potrà essere utilizzato come nuova area di guerra, come la chiamano loro, nella season numero 8 ed effettivamente a me piace pensare che possa avere un utilizzo un po' più interessante di quello che ha fatto finora. Ma andiamo avanti, ragazzi, e parliamo invece di tre update che ci saranno prima del termine della stagione numero 7. Il primo, lo sappiamo, l'update 7.40 arriverà il 12 febbraio con degli aggiornamenti su Save the World. Vi faccio vedere anche gli altri due. Update 7.4 è una patch dell'update che arriverà il 12 febbraio e l'ultimo, ragazzi, il giorno prima dell'end season, l'update 8.0. Come state vedendo, ci indicano tutte le modifiche a Save the World. Ma prima di salutarvi, ragazzi, voglio rifarvi vedere quello che è stato recuperato nei file di gioco. Arriveranno il 14 febbraio le sfide del Cupid Dark, quindi la versione oscura del Love Ranger, il Dark Ranger. E porco giù da ragazzi, nei file di gioco, le ricompense delle sfide sono V-Bucks. 2.000 V-Bucks in totali. È assurda come cosa, perché non lo hanno mai fatto. Anche i leakers mondiali dicono che è assurda, ma questo è quello presente nel game. Oltre ad ottenere come premi, sembrerebbe, questi V-Bucks, ci sarà anche un nuovo stendardo. Quindi, ragazzi, i leaks sono questi. Anch'io stento a crederci, speriamo però, porco giuda, che invece ci stiamo sbagliando e che ci diano veramente un po' di V-Bucks. Non ne sarei così stupito se lo facessero. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Gli aggiornamenti ve li ho detti. Grazie ancora a tutti per utilizzare il mio codice creator, Xiu Derone, vi mando un abbraccione. Noi ci vediamo presto. Ciao! 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 Ciao!